Certo, bisogna proteggere la lingua italiana Aspetta che ti richiamo La russa! E basta a cantare in inglese E perché? Mi piace Allora, se ti piace Traducila! Ok Ah, ritaglia Va bene Piuttosto Pensiamo alle parole che dobbiamo tradurre Ma se io voglio il pocket coffee, come lo chiamo? Caffè tascabile? Oh, e se invece io voglio uno spritz, che ci dico al cameriere? Uno spruzzo È giusto, è giusto Se invece preferisci il moscomule Basta che chiedi quello con le mosche È facile Tesoro, questa sera ho prenotato allo yucanet Tesoro, questa sera ho prenotato a tutto quello che puoi mangiare Vabbè, io vado che c'ho una call su Zoom, Corampelli Una call Una videochiamata su ingrandimento Degiamolo Ah Degiamolo Degiamolo